Intanto è un'opera perdante e ovviamente contro la guerra. L'ambientazione è il pantheon perché secondo me è un luogo mistico che racconta del passato ma anche della civiltà umana. La tecnica, anche per i tempi e per il tipo di estemporanea, è una tecnica tutta a pennello, con una base acrilica, in quanto riguarda il disegno e poi sopra ci sto lavorando con colori a olio Artisan. Poi ovviamente quando uno lavora tutto a pennello non sa bene qual è il risultato finale perché il lavoro è preparato parzialmente. Però mi voglio divertire, quindi speriamo che il risultato sia ottimo. Ciao a tutti!